Buongiorno a tutte e buongiorno a tutti, come state? Come va? Oggi è giovedì, già già ormai abbiamo scollinato verso la fine della settimana, giovedì 26 settembre, stiamo anche praticamente arrivando anche a fine mese, già settembre è andato, sembra ieri che eravamo ancora lì con i piedi a mollo nel mare, guardando il sole, guardando l'agosto che arrivava e invece siamo già praticamente a quasi ottobre, va bene, non volevo far iniziare subito così con un po' di depressione, quindi cerchiamo di riprenderci subito, anzi facciamolo insieme al 3317853555, nostro numero di whatsapp già pronto qui aperto davanti a me con i messaggi che potete mandarci, foto, video, tutto quello che volete, noi siamo qui pronti anche a suggerimenti, ecco Alberto che ci ha mandato un paio di link che adesso poi andremo a vedere e a suggerirvi, a leggervi un po' di notizie, vi ricordo ancora che questa mattina non abbiamo Repubblica Milano tra i giornali che andremo a leggere perché appunto il sito di Repubblica non sarà aggiornato fino a questa sera alle 23.59, così dice il comunicato, per causa appunto di uno sciopero e quindi leggiamo gli altri, abbiamo altri che nel momento andremo a leggere e poi torneremo nei prossimi giorni con anche Repubblica Milano nel nostro buche di giornali che la mattina vi leggiamo. La mattina davanti fino alle 9, lo sapete con Crystal Radio, oggi parliamo di teatro quindi rimanete poi collegati perché dopo le 8 ci sarà Tamara Malleo qui con noi e insomma tutto il menu è questo, lo sapete come funziona, basta essere con noi sintonizzati su Crystal Radio oppure su Good Morning Milano, goodmorning.milano.it e seguiteci, mettete like, iscriveteci e partecipate insieme a noi, noi siamo qui insieme a voi, tutte le mattine. ACDC I go to hell, questa sì che è una sveglia, poi non dite che vi buttiamo giù dal letto o vi diamo l'energia giusta e la carica per affrontare questa mattinata. Milano, Milano che vi aspetta, Milano che vi accoglie, Milano che ogni tanto però non è poi così facile da vivere o da digerire mi verrebbe da dire. Anche perché appunto, ho cercato poco fa una segnalazione, grazie a chi ci scrive, che ci ricorda che lunedì potrebbe arrivare l'ennesimo sciopero, anzi quasi sicuramente l'ennesimo sciopero. Di chi? Dei treni, questa volta parliamo Trenord perché a Milano si avvicina un nuovo sciopero dei trasporti, questa volta riguardante i treni di Trenord. Leggiamo da Info Città di Milano, che è un'altra testata giornalista, comunque è un sito di informazioni su Milano, non so se vediamo, 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 è un sito di informazioni su Milano. Comunque, cosa succederà lunedì? Lunedì 30 settembre, sigle sindacali Oss, Ult, Will e Orsa Ferrovire hanno indetto un'agitazione. L'agitazione è tutta la giornata, però dovrebbero esserci le fasce garantite, dovrebbe funzionare così lo sciopero. Disaggi quindi limitati per i pendolari tra le 6 e le 9 del mattino, quindi in quell'ora dovrebbero garantire, cioè la fascia di garanzia, e dalle 18 alle 21, ok? Quindi, mi raccomando, controllate bene gli orari dei vostri treni, controllate sempre comunque anche il fatto che se i treni partono prima di quella fascia, ma arrivano dopo, comunque dovrebbero essere garantiti lo stesso, perché è l'orario d'arrivo che dovrebbe fare, in teoria, proprio bene, quello che fa da discrimine se il treno c'è o non c'è. Comunque, lunedì 30 settembre, sciopero, Trenord, lasciate all'occhio e cercate delle informazioni possibili e immaginabili, anche il Malpensa Express dovrebbe rientrare nello sciopero, nel caso saltino le corse, Trenord ha già detto che metterà degli autobus sostitutivi, senza fermati intermedi, che partono da via Paleocapa, che praticamente è la parallela alla stazione di Cadorna, la stazione Trenord, proprio la via a fianco alla stazione, da lì partono e vanno fino a Malpensa, ok? Grazie anche ai Whatsapp che stanno arrivando, come quello di Alberto, che ci dice buongiorno Cristallini, buongiorno Fabio, buongiorno alle ragazze in redazione. Grazie mille Alberto, buongiorno anche a te, giornata facile, come si prospetta la giornata? Fatecelo sapere, 331-78-535-55. Questa mattina, come vi dicevo, parleremo anche di teatro, soprattutto all'inizio, in pochi giorni, anzi stanno iniziando proprio in questi giorni, il Milano Off Fringe Festival, che abbiamo avuto anche ospiti qui con noi questa settimana, è il festival fondamentalmente del teatro indipendente, ebbene, cercate un po' di informazioni, Milano Off Fringe Festival, le trovate su internet, le trovate su Google, le trovate un po' ovunque, perché hanno fatto veramente un grande lavoro di divulgazione, tantissimi spettacoli in giro per la città, fatevi un giro appunto su internet e su Google, cercando un po' di informazioni in più. Alberto risponde alla giornata, in attesa dell'apertura di M4, questa mattina si corre per andare dall'alto capo della Lombardia, è vero? Sì, dopo sarà più facile, molto probabilmente, insomma, sappiamo che, da quanto mi ricordo, Alberto sta da quelle parti lì, dove appunto ci saranno le nuove fermate da M4, che ricordiamo appunto il 12 di ottobre, vedrà finalmente l'apertura di tutta la linea, da San Cristoforo fino a Linate, quindi tutta la linea sarà coperta e finalmente, insomma, dopo anni di lavori, di disagi, che però sono inevitabili, c'è poco da fare, nel senso che io ricordo quando qua invece, dalla nostra parte, hanno fatto la M5, sono stati veramente anni disagianti, disagevoli, dove uscivi la mattina e non sapevi se potevi andare a destra o a sinistra, perché tutte le strade chiudevano, e invece poi adesso tanta tanta roba avere una metropolitana che ti porta in centro in pochi minuti, che ti porta nelle stazioni ferroviarie, insomma, collegato con il mondo. Achille Lauro, se la via Achille Lauro, che questa sera potete vedere su X-Factor, è uno dei nuovi giudici di X-Factor, quindi volendo, se volete seguirlo, potete questa sera seguire appunto X-Factor, ne parleremo magari domani, sapete che è una di quelle poche trasmissioni televisive che seguo, cioè, una poche trasmissioni che seguo, quella è una di quelle che seguo, perché viene sempre fuori cose interessanti, vi ricordo Anna Castiglia, che è stata qui ospite con noi, il solito Dendy, che abbiamo ascoltato più volte, insomma, tante situazioni che possono essere interessanti, anche quest'anno ho visto già qualcosa di interessante. Poi c'è questo tema, anzi, mi piacerebbe sapere cosa ne pensate voi, perché è molto bello, io porto sempre l'esempio di Anna Lisa, che ha iniziato la sua carriera facendo un certo tipo di musica, e anche cantando in una certa maniera, e poi ha dovuto per forza cambiare il suo stile, diventando molto più pop, molto più legata alle logiche del mercato, cantando sempre molto bene, perché non si può dire nulla di quello, ma snaturando, a mio parere, quello che era la sua dote iniziale, la sua impronta iniziale, e diventando invece quella cosa che il mercato vuole. Questa cosa succede spesso a tantissimi artisti, a parte quelli che iniziano facendo l'indie, e poi dopo si vendono alle major, come dicono alcuni, ma che quella in realtà è una stupidaggine, ma molti dovevano un po' cambiare il loro stile, perché le major, o comunque il mercato, impone un certo stile, soprattutto di comunicazione, di vestito, di look, di outfit, così, no? Ecco, a X-Factor è bello vedere anche questo, come quando entrano sono qualcosa, e poi quando escono a volte sono qualcos'altro, poi c'è chi invece rimane quella roba lì, perché entra ed è già qualcosa, faccio ad esempio appunto l'esempio del solito Dandy, che è entrato così ed è uscito ancora così, e infatti quello è il bello. Anna Castiglia, che non è neanche entrata a X-Factor, appunto, ricordiamo che non è stata ammessa dopo gli Home Visit, ma che è rimasta quello che è, e anzi si è portata a casa grandi premi quest'anno, e insomma è una di quelle ragazze da tenere sott'occhio, una di quelle cantautrici italiane da tenere sott'occhio, perché ci farà sicuramente sentire e parlare di lei. Voi cosa ne pensate appunto? Come vivete questi programmi? Semplicemente guardandoli, appunto, come forse sarebbe meglio fare, facendoci una canticchiata, o così analiticamente, come fa il sottoscritto, che, insomma, forse è meglio non mettersi sul divano di fianco a me, mentre si guarda X-Factor, che comincio a fare troppo il criticone su tutto. Beh, fatemelo sapere, 331-78-535-55, il nostro numero di Whatsapp. Aperto anche per le condivisioni, o per quello che appunto state facendo in questa giornata, anche per rispondere al, e dopo ne vediamo un po' di alcune risposte che sono arrivate, a quello che ha detto ieri Vittorio Feltri, ad esempio, parlando di Milano, ha detto, i ciclisti mi piacciono solo quando vengono investiti. Ecco, questa è l'uscita di un sommo giornalista come lui, che forse sarebbe arrivata l'ora di mettersi un po' da parte, magari così. Tanto i soldi ce li ha, signor Feltri, nel senso, si mette lì tranquillo, con la sua copertina, oppure va dal mare, così fa caldo, e si ritira un attimino. Perché, insomma, queste uscite sono veramente, veramente gravi. Infatti il PD, ad esempio, ha detto, c'è un limite alla decenza, si dimetta, si dimetta da cosa? Da consigliere regionale. Perché ricordiamo che Vittorio Feltri, oltre ad essere un giornalista, è anche consigliere regionale in quota Fratelli d'Italia. Sono stati tanti, appunto, quelli che hanno gridato allo scandalo, direi forse anche giustamente, ma mi piacciono solo quando vengono investiti. Insomma, è una frase un po' forte, oltretutto scritta su il giornale, appunto, durante il suo editoriale, perché il direttore editoriale del giornale, appunto, dice, mi danno fastidio le piste ciclabili e il caro affitti non mi interessa, io vivo nella mia casa. Insomma, questa è un po' quella leggera arroganza, mi verrebbe da dire, che capiamo essere magari a volte una provocazione, ma a volte forse è un po' troppo esagerata. E quindi, insomma, vedete voi, vedete voi, allora voi l'ardo a sentenza. E alle 8 e 12 torniamo qui in diretta su Crystal Radio Good Morning Milano. Il giovedì è il giorno del teatro e ovviamente è sempre co-audiovato dai brevissimi e bellissimi suggerimenti che ci dà la nostra. Tamara Malleo, buongiorno Tamara! Buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e gli ascoltatori di Good Morning Milano e Crystal Radio. Come stai oggi? Tutto bene, tutto bene. So che tu sei lontana da casa in questo momento, giusto? Sì, sono in Puglia perché sono venuta per il matrimonio di un mio amico collega e quindi sto passando questi giorni in Puglia, ma domani sono già di ritorno, però devo dire tempo bellissimo e matrimonio bellissimo. Allora, tanti auguri agli sposi anche e allora poi invece so che comunque nonostante la distanza hai dato un'occhiata a quello che la nostra città ci riserva per i prossimi giorni e quindi dove possiamo andare? Siamo prontissimi e prontissime per raccontarvi, uso il plurale perché in realtà il teatro è fatto da tante voci, da tanti appunto sguardi e noi allora partiamo con, come abbiamo già detto nelle precedenti puntate, le stagioni teatrali ufficiali partono a metà ottobre, ma Milano chiaramente si propone con assolutamente degli appuntamenti imperdibili. Allora partiamo da Aprecu, Aprecu si trova ormai, è un luogo che si trova in Porta Romana, in via della Vraida. La settimana scorsa io appunto sono andata a vedere uno spettacolo bellissimo del duo Beth Davis, veramente in questo spazio accogliente, molto molto bello. Adesso invece parte ufficialmente la stagione comica di Aprecu, diretta da Francesca Cuglisi che è un'attrice bravissima, Laura Formenti che è una stand-up comedian molto conosciuta che parla appunto non solo di temi femminili ma insomma di tanti temi attraverso la risata. Laura Formenti sarà proprio ad Aprecu venerdì, quindi domani sera, con Drama Queen e appunto aprirà questa stagione comica dove ci saranno poi molti appuntamenti una volta al mese fino a dicembre, poi ci sarà una stagione diciamo così invernale. Questo è l'appuntamento, vi ricordo Aprecu in Porta Romana, quindi metropolitana gialla. Allora poi, continua? Vai vai, prego, prego, continua pure perché appunto sono tanti appuntamenti che abbiamo. Da Porta Romana ci spostiamo dove? Ci spostiamo in centro, ci spostiamo al Teatro Filodrammatici che si trova proprio accanto alla Scala, quindi metropolitana rossa fermata a Duomo. Il Teatro Filodrammatici inizia la sua stagione appunto a metà ottobre ma inizia con una tradizione che riprende dal suo percorso, cioè con un evento che si chiama Contesto, che è un po' un appuntamento tradizionale del Teatro Filodrammatici ci sono cinque notizie, ci sono cinque registi e cinque drammaturghi che lavorano per 24 ore insieme, insieme a una serie di attori e attrici che si mettono insieme senza aver mai lavorato insieme o avendo lavorato insieme ma in un contesto diverso. Cinque notizie vere, reali del mondo che ci circonda che vengono appunto lavorate drammaturgicamente e attorialmente e per poi essere presentate il lunedì 30 a settembre al Teatro Filodrammatici, una specie di grande festa dove poi dopo lo spettacolo si potrà anche parlare con gli attori, con le attrici, con i registi, con le registe e quindi un po' una festa del teatro in qualche modo al Teatro Filodrammatici e poi appunto da metà ottobre poi si partireà la stagione in cui parleremo. Bene, allora adesso ti chiedo, Tamara, ce ne sono altre immagino, giusto? Ce ne sono altre ancora, vero? Sì, sì, abbiamo un altro appuntamento e poi volevo darti un consiglio letterale. E allora tieni di lì perché ci ascoltiamo Bob Marley e poi torniamo con gli altri consigli di Tamara Malleo. È sempre qui, Tamara, perché insomma sono interessanti. Abbiamo segnato i primi due, adesso un altro e poi anche un consiglio letterario. Grazie, Tamara. Sempre qui con Tamara Malleo, parliamo di teatro. Tamara, allora, primi due appuntamenti, primi due consigli che ci li hai dati, adesso arriva un terzo consiglio e poi anche uno letterario. Quindi lascio la parola a te, Tamara. Allora, volevo proporvi questo spettacolo di una giovane, perché ormai il giovane viene dato in una classificazione di età molto ampia, però una giovane attrice, Francesca Muscatello, che io ho conosciuto perché fa parte dell'Accademia dei Lunanzi, quindi dell'Accademia fondata da Loris Fabiani. Francesca Muscatello debutta con uno spettacolo suo, scritto da lei insieme a Giorgia Aimeri, si chiama Millennials Bug, e la maturgia di Giorgia Aimeri si debutteranno il 29 settembre, quindi domenica, a Villa Pallavicini, in via Meucci 3, mi sono informata, metropolitana verde, crescensago, quindi si può facilmente raggiungere, ed è il racconto di una generazione, la protagonista compie 30 anni, cosa succede quando scoccano questi 30 anni? Non fai parte più della generazione che deve conquistare il mondo, ma non se neanche, diciamo così, chi è già raggiunto molti obiettivi della propria vita, quindi sei un po' nella fase di mezzo, c'è un confronto costante con le altre persone della propria generazione, dove si è arrivati, come si sta facendo, quali obiettivi bisogna raggiungere, e in un viaggio interiore che poi si manifesta esteriormente attraverso una festa che viene organizzata proprio per questi 30 anni, la protagonista fa questa riflessione sulla sua generazione, ma in realtà su un po' tutte le domande che ci poniamo anche in altre fasi della vita. È una specie di festa di compleanno, lo spettacolo, quindi siamo tutti invitati a questa festa di compleanno, Millennials Bug, Villa Palavicini, Via Neucci 3, La Fermata, Metropolitana, Crescensago, Linea Verde. Sì, molto bella Villa Palavicini, proprio in fondo al Viglio Martesana, dove finisce Via Padova, è anche una zona molto carina dove andare. E poi arrivò il consiglio letterario di Tamara Manguio. Sì, no, perché ho appena finito di leggere un libro che mi ha molto colpito e mi ha aperto tantissime riflessioni. Il libro si chiama Mostri di Claire Dederer. È un saggio che parla di distinguere o non distinguere le vite degli artisti dalle proprie opere. il tormento dei fan, nel senso che molto spesso succede questo, no? Chi, un regista, una scrittrice, può compiere degli atti nella sua vita personale che non condividiamo e a quel punto ci chiediamo ma è giusto continuare a seguire quell'artista? Cosa si crea in noi nel approcciarci ad una persona con cui non condividiamo dei principi, il modo in cui si sono comportati nella loro vita reale? Le loro opere sono comunque qualcosa di separato dalle loro vite o quelle opere in qualche modo hanno dentro di sé parte di quello che hanno fatto. Ci sono personaggi molto diversi in questo viaggio compiuto da Claire Dederer che dentro questo viaggio ci sono molte riflessioni personali quindi c'è proprio una riflessione su ciò che accade all'autrice quando si confronta con i grandi miti che lei ha. Stiamo parlando di, non so, Woody Allen, di Roman Polanski ma anche di tantissime donne quindi non soltanto uomini Virginia Woolf, la Rowling insomma, tantissimi personaggi secondo me è un approccio interessante e critico nei confronti di un tema che è molto attuale che è tornato alla ribalta anche con Alice Moore secondo me bisogna riflettere sul tema non ci sono risposte questo è un saggio che non pone tante domande ma non dà risposte come i migliori saggi però secondo me capire che cosa, come ci relazioniamo con le opere di chi compie delle azioni che non condividiamo può essere un interessante viaggio molto, molto, molto interessante poi sì, insomma siamo troppo abituati anche ad avere le risposte e mai a porci le domande quindi invece è un interessante spunto questo Tamara Tamara, grazie mille siamo in chiusura non prima però di ricordarci dove possiamo approfondire invece la conoscenza con te allora potremmo diciamo così suonava male devo dire che suonava un po' male detta così effettivamente però bene dici dove possiamo seguirti Tamara l'appuntamento con teatro Manina che è l'abitudine del teatro in altre forme canale 191 del digitale il venerdì alle 16.40 ancora per questa settimana e poi cambieremo orario e poi lunedì su Antenna 3 canale 11 alle 23.30 e allora grazie mille Tamara buona giornata buona Puglia e ci si rivede la prossima da Milano giusto? certo sì assolutamente di aspetto grazie mille Tamara avanti con un po' di musica adesso i fratelli Jonas e the Jonas Brothers con Sucker alle 8.35 qui su Christian Radio Good Morning Milano allora ho aperto un po' di giornali così per fare una rassegna veloce dei titoli che ci sono appunto quest'oggi in edicola e soprattutto sui siti online ad esempio leggo da Milano Today le uscite di Sala dopo l'attacco di La Russa che diceva tutta colpa del comune se la Champions se la UEFA ha ritirato la finale Champions League del 2025 2027 scusate da San Siro Sala è tornato sul tema ha detto guardate qui se qualcuno ha fallito hanno fallito tutti non si può nessuno può garantire che non ci siano lavori in quel periodo quindi questo dice Sala non possiamo garantire che nel 2027 non ci siano dei lavori in quel momento quindi la UEFA ha detto bene se ci sono garanzie allora via togliamo la finale a Milano ma Sala dice una cosa se i club se ne vanno da Milano e da San Siro venderemo lo stadio bene cioè dopo 4-5 anni siamo arrivati di nuovo a questa conclusione che ripeto secondo me è un'opzione bellissima perché secondo me ripeto e la prova è non secondo me in questo caso ma che in altre parti del mondo è successo ci sono dei player come vengono definiti in questo caso internazionali che sono ben predisposti nel comprarsi una struttura con al momento 80.000 poste a sedere magari diventano 60.000 va bene ma con così tanta capienza così tanta volumetria così tanta possibilità di usarlo anche per fare altro ecco quindi non necessariamente lo stadio di San Siro deve rimanere lo stadio del calcio a quel punto può diventare la più grande location per concerti spettacoli di un certo livello capite che se voi lo ristrutturate un attimino e quando dico un attimino le prove ci sono che si può fare lo si chiude lo si fa col tetto apribile o chiudibile come volete fisso non fisso mobile non mobile elevatoio non elevatoio lì dentro cioè il Seek the Soleil si mette pianta stabile un anno a fare spettacoli lì dentro capite? capite che arrivano i grandi musical che fanno fatica a venire in Italia tipo quelli che andiamo a vederci ad Hamburgo o a Londra Re Leone dico una cosa così a caso ad esempio pensate che Disney per fare il Re Leone a Hamburgo ha costruito la struttura del Re Leone da zero ha costruito un teatro con la capienza di migliaia e migliaia di posti solo esclusivamente per mettere in scena il Re Leone che è in scena da 3-4 anni ormai tutti i giorni praticamente ci sono delle economie che vanno ben oltre il calcio che possono tranquillamente entrare in una zona come quella di San Siro entrare in uno stabile come quella dello stadio di San Siro e anzi riqualificare già solo con il mettere lì una cosa che è diversa dal calcio che è diversa da una location che viene usata una barra due volte a settimana una location che viene usata con una marea di persone che arrivano tutte in un certo istante e se ne vanno tutte in un altro istante con le tifoserie con i problemi di ordine pubblico cioè è tutta un'altra storia si può fare davvero qualcosa di diverso quindi ben venga se i club se ne vanno a Milano venderemo lo stadio non credo minimamente che Milano rimanga col cerino in mano come si dice in questi casi rimane invece con un immobile che ovviamente non varrà più i miliardi che poteva valere qualche anno fa ma che comunque vale ancora tanto vale soprattutto per il potenziale che hai quindi quando tu lo vendi lo vendi anche pensando ragazzi ma sappiate che io ve lo vendo ma voi farete milioni e milioni di euro con quella roba lì quindi pagatecelo il giusto prezzo Gustavo Lima lo dice anche lui è il suo nome ed è il nome che il giudice pochi giorni fa ha dovuto dire per dire dovete arrestare quello lì e sì perché Gustavo Lima è stato fermato in realtà adesso è già stato rilasciato però il 24 settembre quindi due giorni fa il tribunale del Premambuco una regione credo da uno stato del del Brasile il Brasile è come negli Stati Uniti c'ha gli stati però non ha l'Oregon la California ma ha il Premambuco ad esempio Salvador de Bahia è nella regione di Bahia ad esempio comunque ha ordinato la custodia cautelare il giudice appunto dello stato del Premambuco ha ordinato la custodia cautelare del cantante Gustavo Lima è stato arrestato o meglio fermato perché sembrerebbe facesse parte di un'organizzazione che ha a che fare con il gioco d'azzardo e con altre situazioni simili e nella fattispecie il cantante Gustavo Lima avrebbe aiutato due ricercati dalla polizia appunto brasiliana a lasciare il paese quindi aiutati diciamo in una fuga o fuori dal Brasile quindi è stato fermato è stato è stato sequestrato il passaporto e tutto in modo che non potesse lasciare il paese ma il giorno dopo andiamo al 25 settembre l'ordine è stato revocato quindi Gustavo Lima ha revocato l'ordine di arresto per il cantante sto leggendo appunto dai vari siti questo momento ad esempio Sky TG24 ma anche Ansa ha battuto questa notizia i giudici hanno invece revocato la sospensione del passaporto e di altre misure cautelari nei confronti dell'artista appunto artista che nel 2012 aveva raggiunto il grande successo con la canzone che abbiamo appena ascoltato quindi insomma non abbiamo messa anche per questo quindi 24 ore di paura diciamo per Gustavo Lima comunque le indagini andranno avanti chissà se l'hanno tirato in mezzo o se invece davvero era lui quello che ha aiutato a fare questa evasione no questa fuga ai due ricercati dalla polizia brasiliana di fatto insomma c'è tutta una grande questione aperta in Brasile se vi interessa andate leggere i giornali brasiliani mi fermo qua sono già andato ben oltre al siamo good morning Milano mica siamo good morning Salvador De Bahia o good morning Recife no siamo good morning Milano quindi rimango qua io i casebbian coming back to me good 8 e 46 minuti Crystal Radio good morning Milano sempre qui in diretta con un po' di notizie che leggiamo dai giornali come ad esempio quella che ha a che fare la leggiamo da Repubblica Milano sull'inchiesta Bosco Navigli quello che viene definito anche il bosco orizzontale come se gli altri boschi fossero verticali sì invece perché a Milano sono verticali pensa a te inchiesta Bosco Navigli secondo i consulenti della procura c'è stato un danno da 5,5 milioni per il comune è il calcolo derivante da mancate monetizzazioni del progetto firmato da Boeri un minore incasso da cui deriva per l'accusa peggioramento della qualità urbana con danno per l'intera collettività questo non ha a che fare con il famoso filone della procura che cercava di capire certi progetti nati nei cortini ristrutturazioni fatte passare per ristrutturazioni poi invece erano praticamente costruzioni nuove che comunque sembrerebbe che in realtà seguissero le regole che c'erano in atto quindi comunque anche lì non è ancora ben chiaro cosa sia successo bene qui è un'altra questione infatti è uno dei tanti progetti sotto inchiesta da parte della procura in questo caso per i boschionavidi però si fa questa ipotesi appunto di reato diciamo che è il danno da mancate monetizzazioni per le casse del comune che appunto si calcola sarebbero di oltre 5 milioni e mezzo lo scrivono così appunto i consulenti tecnici della procura Alberto Rocella e Maurizio Bracchi nella relazione tecnica legata agli atti dell'indagine appunto della procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano e dai PM Paolo Filippini e Mauro Clerici questo è quello che appunto il nucleo di polizia economica e finanziaria e guardia di finanza ha accertato unnesima questione appunto complicata da seguire su quanto riguarda l'urbanistica e vedremo appunto Bosco Orizzontale questo è quello che l'hanno chiamato così poi vedremo appunto c'è anche quello verticale la rappresentante di lista la città addosso città che vedrà il 12 di ottobre l'apertura della nuova M4 la metropolitana che da San Cristoforo porterà fino a Linate e viceversa ovviamente cosa succederà però su Milano Today c'è un bel artico nella sezione i dettagli viene inserito come sottotitolo perché apre la M4 fino a San Cristoforo tutte le modifiche ai bus presentata la rimodulazione dei mezzi non ci sono tagli su linee urbane alcuni bus come la 95 prolungati invece per connettersi all'M4 torna anche la circolare sulla cerchia dei navigli e sì perché torna la circolare sulla cerchia dei navigli circolare cerchia dei navigli tra le novità appunto più rilevanti torna il bus circolare della cerchia dei navigli ovvero la circolazione più interna che nella tratta sud è percorsa appunto dalla nuova tratta di M4 le linee si chiameranno 96 e 97 e percorreranno la cerchia da Cadorna a Cadorna sostituendo l'attuale 94 che non è più da tempo una circolare la tratta nord della circonvalazione dove non c'è la M4 insieme alla 96 e 97 sarà rinforzata anche dalla linea 84 diversamente la 85 invece sarà accorciata a Cadorna in quanto il resto del suo percorso sarà preso in carico dalla nuova circolare quindi finalmente ci sarà proprio di nuovo una circolare completa che fa tutta la cerchia dei navigli i tram non vengono toccate le linee di tram sugli assi Lorenteggio e Giambellino si trattava della valutazione più temuta invece della variazione più temuta dai numerosi abitanti no per adesso appunto tutto a posto sia sull'asse Lorenteggio che Giambellino rimangono appunto le linee dei tram la 95 invece si allunga un attimino perché connetterà andrà avanti fino a San Cristoforo quindi non si fermerà più nel quartiere Barona ma tirerà fino a San Cristoforo 8 e 56 minuti finisce in questo istante la puntata di oggi giovedì 26 settembre di Good Morning Milano prima di salutarvi voglio ringraziare anche chi ci ha scritto al 331 7853555 grazie Alberto grazie a Nello grazie a Adriana grazie a Erika grazie a Marco grazie a Pietro grazie a Luisa tantissima gente veramente questa mattina ci ha scritto grazie a tutti per i vostri Whatsapp dopo di noi l'irrefrenabile oggi è irrefrenabile ho deciso così Ambrogio Curti con Senti Questa la grande musica raccontata dal grande Ambrogio Curti se invece volete riascoltare tutto quello che succede la mattina qui dalle 7 alle 9 su Crystal Radio beh c'è un sito goodmorning.milano.it su cui potete ritrovare tutto quello che volete poi c'è il podcast poi c'è YouTube insomma ci sono i social abbiamo anche TikTok pensa a te pensa a te comunque mettere l'accento sul fatto che hai TikTok è proprio da boomer cioè perché in realtà dovrebbe essere una cosa normale invece devo mettere l'accento sul fatto che hai TikTok ho anche TikTok è proprio da boomer come roba le voci che avete sentito questa mattina sono state quelle di Tamara Malleo Fabio Ranfi qui dietro il microfono codio Vati in regia da Beatrice che fa duplice funzione in questi giorni tanta tanti auguri anche a Gineva invece di Bronta Guerrigione ciao a domani Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.